Allora Cesar, sto abbronziato, hai fatto un po' le vacanze o è il sole della preparazione? No, questo è tutto il sole della preparazione, perché poi sono andato in Uruguay, quindi là era freddo, quindi è tutto della preparazione. Senti, com'è nata questa stagione, questa nuova stagione? Niente, oggi è stata una vera partita, quella che ci aspetta questo campionato, però al di là del risultato noi cercavamo di mettere minuti sulle gambe, abbiamo fatto, penso, una grande partita e poi il risultato è un po' buciardo, perché abbiamo fatto noi la partita, abbiamo giocato molto molto bene di quello che ci aspettavamo, però adesso bisogna lavorare ancora di più e arrivare in la miglior maniera del campionato. Faceva caldo? Sì, faceva molto caldo questo qui, noi facevamo uno scatto e poi per recuperare ci stavi tanto, però bisogna adattarsi a questo tempo qua, perché il campionato sarà così, quindi niente, siamo contenti di quello che stiamo facendo fino adesso. Senti, buona circolazione di palla, mi ha sembrato, un po' le caratteristiche dell'anno scorso, se vogliamo la Ternana con qualche inserimento nuovo, però si è partiti da dove si è finita la stagione scorsa, la stessa mentalità, la stessa aggressività, anche se i ritmi chiaramente non sono quelli della scorsa stagione, nel senso con questi caldi, con la preparazione in atto. Sì, noi cerchiamo sempre di mettere dentro quello che ci dice il mister, quello dell'anno scorso, di continuare a fare questo che ci ha portato a vincere il campionato. Poi sapevamo che quest'anno sarà difficile, però noi ci prepariamo per andare a questo campionato a vincere in tutti i campi. Poi sapevamo che è difficile, però proviamo con tutti i nuovi arrivati che ci stanno adattando al gioco che facciamo noi. Però, come ti dico, sono contento e siamo contenti di quello che stiamo facendo, perché oggi si è visto che abbiamo fatto molto, molto bene. Senti, Di Lucia ha negato la gioia del gol, in due circostanze. Sì, sì, peccato, peccato, perché il gol è sempre importante, pure l'armichevole, però oggi non contava quello, contava mettere minuti sulle gambe e l'abbiamo fatto in grande forma. Tra le altre cose, nella prima occasione, gran bella azione sull'asse Falletti, vantaggiato Falletti. Nel secondo tempo, un'altra grande bella azione, il tuo tiro al limite, ma un'altra grande bella azione sull'asse Furlan-Falletti-Paghera, che purtroppo la conclusione non è stata pari alla bellezza dell'azione. Sì, peccato, peccato, perché quella è stata una bella azione che va bene, è andato a tiro Fabrizio, poteva andare a tiro un altro che era meglio, però è stato Fabrizio e l'ha buttata fuori. Quello no, no, non conta. Conta quello che ti ho detto, di prepararci bene per il campionato e arrivare nella migliaia maniera per affrontare questo campionato è un bel a fuori. Senti, un'ultima cosa, il professor Bartoli è lo stesso della scorsa stagione? Nel senso, sì, lui è lo stesso, però il modo di farvi lavorare? Ancora più duramente oppure? No, quello che mi hanno detto abbiamo fatto qualcosa in più, molto in più, però bene, siamo bene, siamo tutti bene, non abbiamo, al di là di partipilo che si è fatto male, qualche cosina ma piccola, però siamo veramente bene, in grande forma, oggi si è visto che fino alla fine abbiamo provato a prestare arti, a correre, che era quello che contava e penso che il prof sarà contento di questo che abbiamo fatto. Sì, abbiamo visto, alla fine mi ha stretto la mano a tutti, quindi voglio dire, del resto la partita è stata così, è vero che ci sono stati ritmi altissimi, ma era impossibile, dicevo prima, per il caldo e per la condizione non ottimale ancora e per il lavoro duro che si fa in settimana, però effettivamente la mentalità è sempre quella. l'inserimento dei nuovi? Bene, 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 sono contento e siamo contenti di quello che stanno facendo, siano inseriti abbastanza bene, noi li abbiamo inseriti abbastanza bene, trattiamo sempre di stare vicino a loro, sono, 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 alcuni sono giovani, alcuni già come pettinari che sono un po' vecchi, però l'idea è sempre... Sarà contento di pettinari? No, vecchio è nel senso che... Nel senso buono di esperienza, certo. Però, bene, siamo contenti di quello che stanno facendo e oggi hanno dimostrato che si stanno adattando a quello che chiede il Miss. Ieri i tifosi, nonostante il caldo, perché anche ieri faceva caldo, insomma l'avete apprezzato, immagino, quella visita in Acquasparta. Sì, sì, è vero che il calcio senza tifosi è brutto, poi averli così vicini è sempre, sempre bello, ti dà la carica quella di già voler cominciare il campionato, quindi speriamo che questo campionato lasciano, al di là di quelli che possono entrare con tutte quelle cose che chiedono, lasciano entrare i tifosi allo stadio, che sarà una bella spinta e ci darà una grande mano a noi. Grazie Cesar, grazie davvero. Naturalmente auguriamo a Cesar le migliori fortune, saluto anche Alberto Pesca, uno dei magazzinieri della Vernana, e quindi volevo dire, stiamo aspettando Lucarelli, probabilmente ce lo fanno fare, nel senso che siamo arrivati un po' in ritardo, eravamo arrivati un po' lunghi. Sì, dicevo, quindi abbiamo sentito Cesar Falletti, facciamo gli stessi auguri di ripetere lo stesso campionato della scorsa stagione a Cesar, perché ha rispondato un campionato, direi straordinario, Cesar Falletti, ha fatto tanti gol, tante giocate di grande classe, giocatore sicuramente molto, 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 molto importante per l'economia del gioco della Ternana. Quindi da questo punto di vista sicuramente è una conferma di Falletti che ormai a Terni ha conosciuto sicuramente una seconda patria, una seconda vita, se vogliamo, perché si trova bene a Terni, si trova bene nella Ternana, la sua famiglia altrettanto si trova bene in questa nostra città e questo sicuramente lo fa rendere al meglio. Direi che anche oggi è stato particolarmente brillante in un paio di circostanze, in un paio di occasioni, in cui ha messo davvero in evidenza tutta la sua classe e le sue potenzialità. Un giocatore, direi, essenziale per l'economia del gioco della Ternana. Quindi da questo punto di vista possiamo dire che Falletti è l'elemento fondamentale in cui si fonda il gioco offensivo della Ternana, completato poi dalle presenze sulle fasce di un giocatore importante come può essere Partipilo, di un altro giocatore altrettanto importante come può essere Furlano. E a proposito di Partipilo, insomma, abbiamo visto che ha ricominciato praticamente ad effettuare la rieducazione della... più che rieducazione praticamente sta lavorando con le gambe, sta facendo movimento con la bici, però l'abbiamo visto per esempio all'altro giorno ad Acqua Sparta che ai compagni gli faceva vedere come riusciva ad alzare il braccio e lo portava direi abbastanza su senza particolari problemi. Quindi da questo punto di vista diciamo che forse brucerà anche le tappe per poter ritornare nel campo Partipilo e come si diceva con Lucarelli più che un problema fisico potrebbe essere un problema mentale, un problema psicologico più che altro e quindi staremo a vedere. Insomma, è chiaro che ha una gran voglia di rimettersi in gioco perché basta non dimenticarlo, è stato praticamente, scusami, è stato senza dimenticarlo, è stato colui che insomma ha praticamente guidato la Ternana in chiave offensiva per tutto il campionato insieme agli altri protagonisti come possono essere appunto Furlan, Vantaggiato, insomma tutti coloro che sul fronte offensivo Raicevic, Ferrante hanno dato il proprio contributo, quindi sicuramente un elemento essenziale, importante per la Ternana di questa stagione, di questa Serie B. Chissà, voglio dire, è chiaro che gli sportivi sono orientati a pensare quali potranno essere diciamo gli arrivi in casa della Ternana, probabilmente lo sapremo di più nei prossimi giorni, c'è la questione aperta del portiere, c'è la questione aperta dei due centrali, uno under e uno over, non sappiamo se esista ancora o meno, visto che Lucarelli insiste nel proporre Salsano sulla sinistra, se insomma rientra ancora nelle corde della Ternana e andare a trovare un terzino sinistro, un centrocampista under, è quello che praticamente ci diceva Lucarelli al termine della partita con il Grosseto. Quindi sono tutte cose da chiarire, tutte cose che sono in gioco, tutte cose che verranno chiarite nel corso di questo primo mese. Come dice Luca Giovannetti, purtroppo il campionato inizia e il calciomercato sarà ancora aperto, perché insomma manca un mese alla chiusura, quindi stiamo aspettando appunto Lucarelli che dovrebbe arrivare da pochissimo per parlare con lui, per sentire un po' se è stato contento della prestazione della sua squadra. Io ritengo di sì, ritengo di sì, poi lui è uno schietto, insomma, se non è stato contento lo dice chiaramente, però aspettiamolo per sentire proprio da lui le parole, quello che pensa, se effettivamente è stato soddisfatto di quella che è stata la prestazione della squadra. Ricordo che dopo questa amichevole che si è conclua sul 2-0 per il Frosinone, la terna tornerà in campo giovedì prossimo, il giorno 5, adesso non so se sia giovedì o mercoledì, il giorno 5 alle 17 ad Acqua Sparta, ad Acqua Sparta contro la Narnese. Grazie mister. Come va? Tutto bene? Sì. Ambronzatissimo, tutto regolare. A parte il risultato che dà sempre fastidio, ma per il resto tutto bene. Beh, io dicevo, in fase di presentazione, Lucarelli con la sua schiettezza sicuramente ci dirà se sarà meno o più o meno soddisfatto, però dico la mia magari se siamo d'accordo. Secondo me siamo partiti da dove è finita la scorsa stagione, dove siamo finiti la scorsa stagione, ovvero la stessa mentalità. C'è l'Anna che vuole far gioco, c'è l'Anna che va alla riconquista del pallone alta, anche se i ritmi chiaramente, vista la stagione, vista il lavoro svolto, non può essere un ritmo elevato come quello nel corso di una stagione. Sì, abbiamo portato tanto dell'anno scorso in questo inizio stagione, anche nelle altre due amichevoli, oggi che era quella forse più attendibile perché incontravamo una pari categoria, in effetti siamo venuti qui, abbiamo provato a fare la partita e per lunghi tratti siamo anche riusciti, abbiamo creato tante occasioni da gol e dispiace che non abbiamo concretizzato. Però abbiamo visto anche quelli che possono essere delle forse su cui migliorare e su cui lavorare e quindi alla fine, voi sapete che a me va anche bene perdere le partite del precampionato perché ci aiutano a avere lo stimolo di andare a vedere il pelo nell'uovo e questo è importante, è importante per me, è importante per il direttore sportivo perché se mai ci fosse da intervenire dovremmo farlo. E quindi ben vengano fuori subito tutti gli aspetti su cui dobbiamo migliorare. Tanti peli nell'uovo? No, no, tanti peli nell'uovo no, diciamo che sicuramente oggi abbiamo capito che se mai ce ne fosse bisogno che la B non è la C e che anche al minimo errore e concedendo pochissimo all'avversario si perde le partite in B e che non si può veramente mai tirare fuori la testa dal carri armato come amo dire io fino a che non siamo sicuri, non solo fino a che l'arbitro non fischia la fine ma fino a che non siamo sicuri che gli agili sono già rientrati negli spogliatoi perché oggi ne è stata un po' la prova, noi abbiamo fatto la partita loro hanno giocato su dei nostri errori nella costruzione e delle ripartenze dove noi abbiamo fatto malissimo le coperture preventive e questo noi non ce lo possiamo permettere perché in B, come ho detto, troviamo giocatori che ci fanno male e poi il fatto che tu abbia giocato bene se fai due partite conta relativamente diciamo sulla sinistra abbiamo visto Salsano per tutta la partita poi Celli centrale e Salsano praticamente a sinistra è evidente che Lucarelli insiste su Salsano, lo vede come protagonista su quella faccia ma più che altro perché il ragazzo vuole giocare lì e quindi è venuto a me all'inizio dell'anno e mi ha detto io mi sento terzino mi dispiace che me ne sono accorto tardi ma io e in effetti ha ragione perché comunque in mezzo secondo me ha un po' meno tempi di gioco ha dei tempi di gioco diverso agli altri nostri centrocampisti mentre invece lì lui ha delle qualità Nello è primo in tutte le corse che noi facciamo per qualità organiche per qualità di resistenza e di dinamicità quindi probabilmente lì sull'esterno riesce a sfogarla questa corsa poi lui ha anche un buon piede e quando arriva sul fondo mette dei buoni palloni quindi se lui e la sua volontà è lì e si applica ci siamo riusciti con Marino e ci possiamo riuscire secondo me anche con lui Allora per parte non al caso voglio dire i due versini sinistri sia Salsano che Celli erano quelli che guidavano sempre l'andatura nell'allenamento di Matedì ma perché hanno delle qualità come ho detto prima aerobiche incredibili quindi per quel ruolo lì serve giocatori che arano la fascia per 95 minuti Diciamo nonostante il caldo, nonostante la stagione, nonostante il lavoro oggi si sono viste anche delle belle trame due su tutte per esempio quella del primo tempo vantaggiato e Falletti quella nel secondo la stagione sulla fascia destra Fullan, Falletti e Paghera quella da applausi Sì, no ma ho detto abbiamo la solita ternana un po' distratta sulle ripartenze però la solita ternana coraggiosa che è venuta a casa di una squadra che due anni fa giocava in Serie A con giocatori che due anni fa giocavano in Serie A e avviso aperto, con coraggio, anche se è in amichevole ma questo deve essere la nostra impronta ovviamente dobbiamo registrare qualcosina ma lo sappiamo perché sono appena 20 giorni che lavoriamo e quindi come amo dire io non sono così bravo da poter in 20 giorni sistemare le cose anzi l'anno scorso ci è voluto tutto il precampionato che abbiamo preso diverse musate e anche le prime 5 partite del campionato per cominciare a essere la ternana che volevo che fossimo noi carichiamo molto ragazzi in questo periodo non potremmo avere le gambe brillanti all'inizio però poi come avete visto abbiamo tenuto fino alla fine in D più che mai avete caricato più dell'anno scorso o lo stesso lavoro? No, abbiamo caricato più dell'anno scorso perché ovviamente l'anno scorso è stata tutta un po' in fretta e furia perché ci siamo trovati il 17 di agosto e abbiamo cominciato a giocare praticamente subito e quest'anno invece abbiamo potuto fare le cose con più calma e ovviamente abbiamo spinto un po' di più anche come abbiamo detto più volte facendo dei lavori addirittura personalizzati Dopo la partita con i grosseti ci siamo sentiti al telefono la trasmissione insieme a Luca Giovannetti, insieme a Marco eccetera e parlavamo un po' di quelli che potevano essere gli elementi che ancora mancano alla ternana possiamo fare un po' un bilancio? E che chiede insomma a Lucarelli alla ternana e alla luce di queste partite? A Leone più che alla ternana? Io mi prendo altri 15 giorni di tempo grosso modo io ho già le idee chiare e la società lo sa però prenderci 15 giorni in più e avere conferme non guasta e quindi aspettiamo magari la partita di Coppa Italia con l'Avellino ed eventualmente quella con il Bologna e poi fare un quadro un po' quasi definitivo della situazione però orientativamente ecco dove intervenire grosso modo lo sappiamo già L'ultima cosa si aspettava ad oggi insomma dopo l'inizio della preparazione dopo il lasso di tempo trascorso si aspettava una ternana così o voglio dire è sorpreso di come si sta esprimendo? No speravo così la partita col Grosseto al di là del 3 a 0 non mi era piaciuta tanto oggi pur perdendo invece ho visto la ternana quella che vorrei riuscisse a imporsi anche in serie B cioè riuscisse a non essere la vittima sacrificale di tutti e a subire dentro l'area di rigore l'avversario ma essere quella che invece va a proporsi a prendere l'avversario altissimo senza timori reverenziali Grazie mister grazie davvero Grazie a voi Allora chiudiamo chiudiamo questo collegamento oggi è stata un po' abbiamo rimediata comunque in extremis la situazione quindi speriamo di avere fatto un un lavoro accettabile nonostante le problematiche tecniche ci sono state quindi grazie davvero per tutti coloro che ci hanno seguito però diamo domani sera anzi sera l'appuntamento alle ore 21 vederci mister alle ore 21 con un'altra diretta diretta Terranatime per commentare la partita insieme a Luca Giovannetti e Marco Di Sostumi e insieme ad Alessandro Laureti e naturalmente la riproposizione delle interviste che abbiamo effettuato con Cesar Falletti con Luca Chiringhelli e con il tecnico Cristiano Lucarelli io come Lucarelli per chiudere insomma sarei sono abbastanza soddisfatto di quello che ho visto dalla Terranatime perché come ripeto ho visto la Terranatime dell'anno scorso la stessa mentalità la stessa personalità la stessa volontà di far gioco e la stessa volontà praticamente di proporsi e non subire passivamente quelle che sono le iniziative degli avversari e quella di oggi è una formazione che minirà nel prossimo campionato di Serie B quindi è una formazione sicuramente importante anche se dall'una e dall'altra parte oggi mancavano negli elementi nella Terranatime lo ricordavamo prima mancavano Partifilo mancava Defendi mancava Capanni mancava Partifilo mancava Palumbo quindi tutte assenze importanti sicuramente alcuni sono rimasti a Terni a lavorare altri invece come Palumbo e come Partifilo devono recuperare la loro condizione migliore e dargli infortuni è tutto vi ringrazio davvero insieme a Marco Grisostomi l'appuntamento è all'ora 21 per il nostro diretta Terranatime grazie e buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti